Marina, il tavo posto conclusivo, come si valuta? Ma sicuramente se si valuta l'ottavo posto non è un bel numero. Io penso che oggi potevamo giocarcela molto meglio, però non dobbiamo abbassarci, siamo un bel gruppo. Abbiamo dimostrato il tardesimo le gare, dobbiamo solo fare più gruppo e crederci un po' di più e poi arriverà anche il giorno in cui riusciremo a mostrarlo in una stacchetta. Non dobbiamo abbassarci, è andata male, sì, potevamo essere quinte come potevamo essere il tavo, però l'importante è che non ci abbattiamo, che teniamo duro, che ci saranno anche altre staffette e dimostreremo prima o poi il nostro valore. Anche perché siete molto giovani, quindi di occasione ce ne saranno tante. Sì, siamo molto giovani e forse solo da poco tempo abbiamo capito il valore del gruppo, l'importanza che c'è al gruppo. Penso che possiamo crescere tutte insieme, ci aiuteremo, non abbiamo Merit Björgen, però ognuna abbiamo delle caratteristiche diverse e cercheremo di sfruttarle per crescere tutte insieme. Il tuo mondiale? Il mio mondiale è Dolce Amaro. Sono stata contentissima del quinto posto della T-Sprint, sono contenta comunque anche oggi delle sensazioni che ho avuto oggi. C'è un piccolo ramarico per quella 10 chilometri che però è dimenticata e va bene. Grazie, grazie.